Eccola! Ed ecco lei il principe, Eric! Adesso capisco perché la vuole di prima, è così bella! Hai visto com'è bella la nostra Ariel? Eh, ma ce l'ha già il suo principe e tu hai già la tua principessa, quindi non guardare le altre. E' vero, non dovrei. E lui ci vediamo, no no, è tutto a posto, amico, amici, amici forever. E noi continuiamo a chiamare le principesse e lo facciamo passando alla misteriosa e bellissima Chida di Atlantis. Il mondo sommesso, ci toglie le ciabatte. Non si alza l'Atlantis, ma allora si guarda. Oh, è vero, ci sono andato, sono molto scarsa. Com'è magica questa principessa. Guarda che sguardo magnetico, è vero. Attenzione ai bambini che vi ipnotizza, eh? E dopo la bella Chida chiamiamo sul palco la nostra principessa sognatrice, Belda, la bella e la bestia. Tutto qui è un bel paesino, ogni dì non cambia mai, è così che la gente vive con semplicità. E con il tornaio con il suo passo, io, l'oste sovato.